1-3-1 Siamo di ultima generazione, il governo italiano è criminale perché è il sesto finanziatore di combustibili fossili al mondo, investe 3 miliardi di soldi di euro all'anno nei combustibili fossili, è inaccettabile. Quest'anno abbiamo perso oltre 7 miliardi di euro in tanto libro a causa della città e del mercato estremo, stiamo andando incontro con un futuro senza cibo e senza acqua, i vostri figli non avranno il cibo in tavola, l'acqua, quello che gli è essenziali per evitare la morte di milioni di persone in questi prossimi anni, si parla di oltre un quinto dell'Italia desentificato Il consigliere scientifico del governo britannico dice che abbiamo circa due anni per definire il destino dell'umanità Il consigliere scientifico del governo britannico, Sir David King, due anni per definire il destino dell'umanità Noi stiamo semplicemente resistendo a questa ingiustizia che viene commessa giorno dopo giorno nel mondo E il nostro governo è buono